Da oltre 30 anni intrecciamo la nostra storia con la storia di ognuno di voi. Maglificio Anna Maria, storie scritte a maglia. Bentrovati al meteo. Il Mediterraneo è caratterizzato dalla presenza di un nucleo depressionario ad ovest e da un promontorio anticiclonico ad est. Sul nostro territorio prevale l'alta pressione, il tempo sarà stabile. Sul Veneto la giornata di giovedì 11 novembre sarà caratterizzata da una situazione tranquilla fino al primo mattino nuvolosità bassa con possibili locali foschi o nebbie sulla pianura. In seguito cielo sereno o poco nuvoloso. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura. Temperature in aumento oltre la media del periodo, minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento ovunque. Il cielo si presenterà sereno o velato senza piogge. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime sui 17 e 18 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove di fatto non cambia la situazione perché anche in questo caso avremo tanto sole. Il cielo sarà limpido o al massimo con poche nubi sparse un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 5 e 7 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e rivederci al prossimo aggiornamento. Passa a trovarci nei mercati e negozi più vicini a te e nel nuovo punto vendita di Treviso. Grazie per l'attenzione e rivederci al prossimo aggiornamento.